Musica Innanzitutto buongiorno e un saluto ai nostri amici cinofili Un saluto a tutti quanti gli amici cinofili di buona volontà cinofila Massimo stamattina ci hai fatto divertire e appassionare con tante belle dimostrazioni in particolare una che è proprio segno della sensibilità civica che tutti noi dovremmo avere i tuoi cani stanno a fare la raccolta differenziata, raccontaci No, chiaramente non è un discorso, abbiamo fatto vedere come un cane possa fare la raccolta differenziata chiaramente nessuno di noi cinofili vuole che il cane faccia la raccolta differenziata ma sicuramente è un aiuto per noi per sensibilizzare quelle nuove leve, la gioventù nelle scuole e magari fargli vedere come un cane possa raccogliere degli oggetti di vario tipo e mettergli negli appositi contenitori, cosa che noi umani non facciamo quindi far vedere a un bambino che un cane possa fare una cosa del genere significa che il bambino tornerà a casa la sera e dirà al papà o alla mamma papà mamma ho visto un cane che faceva la raccolta differenziata, come mai noi non la facciamo? e questo per noi già è un messaggio di sensibilizzazione enorme nei confronti delle nuove leve che crescono nei confronti dell'ambiente proprio sensibilizzarli sin dall'inizio con l'ausilio dei nostri cani Quanti cani hai? Quanti vivono con te? Che vita fanno? Allora, personalmente io ho circa 20 cani, non lo dico con precisione perché qualcuno mi è stato abbandonato nel mio centro e quindi è diventato mio però all'incirca sono 20, a turno dormono a casa 7-8 cani, in 20 non ce la faccio a tenerli tutti dentro però a turno, a secondo il periodo più caldo e più freddo, a secondo il pelo che hanno, saranno a casa Grazie